ho quasi il dubbio che non vi faranno vedere al Tg1 al Tg5 ma io vi porto nel mio cuore e quindi grazie perché possono far finta in televisione che voi non esistiate però il 27 ottobre l'Umbria dimostrerà a tutta Italia che esiste e come se esiste e dopo 50 anni la sinistra va a casa dall'Umbria e si cambia finalmente venendo qua mi è arrivato il messaggino ma stanno anche perdendo pezzi poveretti oggi si è dimesso il segretario provinciale del partito democratico di Terni non sono più d'accordo manco fra loro stessi però c'è qualcuno che per fortuna ha ancora il senso della vergogna perché io lo ricordo sempre quando vado in televisione in Umbria voi non avreste dovuto votare nel 2019 voi avreste dovuto votare nel 2020 si va a votare nel 2019 perché hanno arrestato l'assessore alla sanità il segretario regionale hanno indagato il governatore il partito democratico la cosa curiosa è che li hanno arrestati su segnalazione dei 5 stelle e oggi i 5 stelle si alleano con quelli che hanno fatto arrestare e ditemi voi ma neanche sui fumetti di Topolino e Gamba di Legno decidete voi chi è Topolino e chi è Gamba di Legno però comunque il 27 ottobre fortunatamente mancano 27 giorni e la parola è vostra anche perché a Roma l'ho appena commentato con i giornalisti è incredibile oggi hanno cambiato cinque volte idea sull'iva sull'aumento dell'iva voi vi ricordate che hanno passato tutto agosto a dire dobbiamo fare un governo non si può andare alle elezioni se no aumenta l'iva e cosa vogliono fare aumentare l'iva cioè ma poi noi ridiamo però la paga chi va a far la spesa aumentare le tasse in un momento di difficoltà economica come questa è un atto criminale e la Lega si opporrà dentro e fuori dal palazzo in ogni maniera per evitare l'aumento delle tasse. Vallo a dire io vengo da Norcia vallo a dire al commerciante di Norcia che è nel prefabbricato che bisogna aumentare l'iva cioè vaglielo a dire tre anni fa sono stato lì dopo tre anni uguale sono andato dagli agricoltori di San Pellegrino che sono sotto gli stessi tendoni e in regione invece di trovare degli amici trovavano l'ufficio delle complicazioni signora torni fra quattro mesi con un altro modulo e un altro modulo e un altro modulo e c'è una mamma disabile che sta in uno scantinato col figlio a furia di compilar moduli ecco ragazzi io mi auguro che voi scegliate per una regione che sia amica degli Umbria e non amica degli amici degli amici in Umbria si lavora se si merita di lavorare non se si ha la tessera del partito giusta in tasca o se si ha la raccomandazione giusta o se si conosce la persona giusta comunque state in un posto stupendo oggi venendo qua un giornalista mi ha mandato un messaggio mi ha detto sei a Roma perché qua bisogna commentare che quelli del PD litigano con i 5 stelle gli ho detto no sono a stroncone è un comune Antonio da stroncone il beato tutta tutta la storia sono vicino a Terni perché loro pensano che tutto o sei a Roma o sei a Milano e invece io faccio l'esatto contrario stamattina mi sono alzato a Cerreto di Spoleto e mi sono alzato felice e poi sono andato a Cascia e poi mi hanno ospitato a Norcia stasera dove andiamo? stasera ad Amelia e onore ho avuto l'onore mio di visitare qualche settimana fa la comunità incontro fondata da Don Pierino Gelmini che ha salvato decine di migliaia di ragazzi dalla droga e pensate che in Parlamento c'è qualcuno che vorrebbe legalizzare la droga vorrebbe lo stato spacciatore di droga e io l'ho proposto e lo riproporrò l'esame antidroga non solo ai lavori a rischio ma anche a quelli che vanno in Parlamento a fare i deputati e i senatori per vedere se quando vanno a schiacciare il bottone sono lucidi oppure si sono pippati qualcosa perché a volte ci sono degli occhi che mamma mia o uno è stanco o vabbè fa niente e quindi è così domani mattina ancora in Umbria poi domani sono in Senato domani pomeriggio domani sera vado a rilassarmi ospite della Lily Gruber una roba tranquilla poi mercoledì ancora beh però almeno non c'ho l'Asia Argento non c'ho sono lì mercoledì mattina ancora a Roma poi giovedì pomeriggio torno in Umbria e vado in carcere a Perugia sperando di uscirne però vado in carcere perché sono stato settimana scorsa in un altro carcere a San Gimignano dove è uscita settimana scorsa la notizia di 15 agenti della polizia penitenziaria sospettati di aver torturato un detenuto tunisino e ci sono delle indagini in corso e 4 di questi sono sospesi per 4 mesi senza stipendio io uno l'ho incontrato fa l'agente di polizia penitenziaria da 33 anni un padre di famiglia di 50 anni che per 4 mesi non ha lo stipendio e non può pagare il mutuo e lo fa solo grazie alla solidarietà dei suoi colleghi agenti che danno una parte del loro stipendio perché lui possa continuare ad aiutare la famiglia che abita lontano ditemi voi se è un paese civile avrebbero torturato in 15 un detenuto tunisino senza un segno sono torturatori strani e comunque io sono andato a San Gimignano e vado a Perugia perché di solito i deputati soprattutto di sinistra vanno in carcere a vedere se stanno bene i detenuti io vado a Perugia a vedere se stanno bene i poliziotti che curano i detenuti perché a volte vivono peggio le guardie rispetto ai ladri però mi sto portando via a piazze stupende da Spello a Gubbio al Trasimeno stamattina a Cerreto e l'ho messo anche su Instagram questo signor Luigi un 75enne tosto dove mi ha detto che è di Terni c'è Luigi? vieni qua Luigi non lo conosciamo io l'ho conosciuto stamattina a Cerreto ma è il bello siamo un po' matti noi della Lega fate un applauso al signor Luigi Arzillo 75enne di Terni che mi si presenta e mi dice due robe mi dice due robe una che non mi ha fatto gran piacere e una che mi ha fatto più piacere quella che mi ha fatto meno piacere Luigi è che è interista e però vabbè quella che mi ha fatto più piacere la vuoi ripetere tu? mi rischio qualcosa non so do il microfono in mano a Luigi vediamo cosa viene fuori un goccetto d'acqua per Luigi non è abituato a noi piacciono le robe fatte o se c'hai voglia non ti voglio mica costringere buonasera a tutti non è facile esprimermi in questa grande folla io ringrazio Salvini che mi ha accolto con grande piacere nel suo cuore io con rammarico dico in due parole la mia storia avevo tre anni e ho perso il mio padre per i partigiani morto per i partigiani ho 75 anni mi hanno chiesto per 75 anni mi hanno chiesto tutto ho dato tutto per terni mi conoscono io ho fatto otto anni ma cardiniera da nazionale ho giocato qui a Strongone nella provincia del Lumbria mi conoscono tutti la famiglia cardinale è un onore che un mio padre si è battuto per i partigiani ma io dal 23 giugno ho strappato la tessera del PD l'ho strappata con mani in cuore perché la storia la storia mia la sanno tutti tutti ho sofferto ho dato molto a Rone l'ho messo a nuovo io ma il 23 giugno mi hanno fatto una cosa orribile e dal 23 giugno dopo le amministrative mi sono legato alla Lega e con tutto il cuore con tutto il cuore farò porta a porta per una signora del mio paese e farò del tutto per essere eletta grazie Salvini che ha dato questa opportunità e la ringrazio un dutto di cuore non l'avevo visto ma sapete che sono in tanti anche l'altro giorno a Gubbio ma ieri ero in Romagna ero prima a Bologna in Emilia poi a Bagnacavallo e poi a Riccione sapete che la soddisfazione Luigi non sei solo di sentire tante donne e tanti uomini che alla fine dell'incontro quando io mi fermo perché per me è una forma di rispetto alla fine quando finisco di parlare mi fermo mezz'ora un'ora due ore quel che serve per stringere la mano e salutare guardare negli occhi ciascuno di voi e in tanti mi dicono Matteo io per una vita ho votato a sinistra perché mio nonno è partigiano perché mio babbo era operaio per la tradizione per la lotta sindacale però l'ho sentito ieri in Emilia in Romagna oggi in Umbria però sto giro voto Lega perché a sinistra ormai si occupano solo dei banchieri e dei finanzieri e con gli operai ci siete rimasti voi con gli agricoltori con gli artigiani con i precari è bello superare gli steccati ideologici andare di là perché la guerra fascisti comunisti è finita settant'anni fa ormai quelli che non c'hanno più non sanno più come attaccarti quando vado alla televisione fascista razzista nazista qua non ci sono fascisti qua ci sono italiani orgogliosi di essere italiani Umbri orgogliosi di essere Umbri punto poi poi qualcuno c'ha l'ossessione ieri mi hanno detto che ancora Fabio Fazio con i milioni che guadagna era lì che ce l'aveva con Salvini ma perché è sull'immigrazione sapete qual è l'unico risultato certo e concreto di queste tre settimane di governo di sinistra stando ai dati non di Salvini ma ai dati ufficiali del Ministero dell'Interno aggiornati a stamattina 30 settembre che per la prima volta dopo due anni settembre 2019 gli sbarchi di immigrati invece di diminuire sono raddoppiati e sono aumentati del 152% perché il signor Conte ha calato le braghe ha riaperto i porti per fare un favore alla Merkel e io ho rischiato e rischio più di un processo per aver bloccato quegli sbarchi l'ho fatto e quando torno al governo perché con voi torniamo al governo lo rifarò perché i confini di un paese sono sacri e in Italia si entra se si ha il permesso di entrare perché i nostri nonni davano la vita per difendere i confini e adesso questi li vanno a prendere a casa loro per poi farli spacciare in giro per Terni o per Perugia ne ho le palle piene di spacciatori scippatori stupratori che manteniamo per venire in Italia a far casino questa non è generosità questa è idiozia quindi e attenzione lo dico perché conosco tantissimi immigrati donne e uomini per bene che sono arrivati da lontano rispettando la legge con i documenti a posto pagano le tasse mandano figli a scuola rispettano la nostra cultura e sono mie sorelle e miei fratelli a me non interessa il colore della pelle a me interessano le persone per bene e le persone per male però vi ricordate la signorina Carola quella su cui quest'estate mi hanno fatto una testa così una nuova eroina della sinistra Luigi un'altra c'era Berlinguer adesso c'hanno Carola però a parte il fatto che in un paese normale se una guidando una nave rischia di uccidere cinque militari italiani su una moto vedetta non va in televisione ma va in galera in un paese normale dovrebbe funzionare così però e adesso in tribunale non ci va lei ma ci vado io perché mi ha denunciato la fenomena vabbè poi si è scoperto settimana scorsa che tre dei bravi ragazzi che c'erano a bordo della Sea Watch della signorina Carola sono stati arrestati come stupratori e torturatori e beh dai tre bravi ragazzi che nel tempo libero stupravano e torturavano e ci hanno fatto le televisioni e quelli del PD erano andati a bordo della barca per dire fateli sbarcare e fateli sbarcare ricordiamoci queste robe invece di andare a bordo della motovedetta della finanza che difendeva i confini i fenomeni del PD erano andati a borco della nave di Carola che rischiava di ammazzare quelli della finanza non la faccio lunga anche perché oggi cos'è lunedì stasera andate cosa c'è lunedì c'è Temptation Island quindi non vorrei rubare c'è porro c'è porro e ho fatto un'intervista ai giardinetti qua di Stroncone con Quarta Repubblica però c'è anche Temptation Island siamo in democrazia io vorrei fare un falò con Conte vedremo permettete un sorriso ma uno arriva la vita è così bella poi l'Umbria è così bella che io mi domando come per 50 anni non siano riusciti a valorizzare una perla perché l'Umbria oltre le fabbriche potrebbe campare di bellezza di arte di cibo e di turismo ma se non fai le strade le autostrade le ferrovie gli aeroporti è come ci arrivi tu c'hai ma guardate solo oggi fra Cascia e Norcia ma delle cose incredibili poi il derby Santa Rita San Benedetto e le cascate ma delle bellezze fra il Ternano e il Perugino incredibili però hai delle strade che sembrano un rally un safari a volte non delle strade le autostrade non parliamone le ferrovie c'hai un frecciarossa che parte da Perugia alle 5 della mattina e quindi se tu stai a stroncone devi andare col sacco a pelo la notte a dormire in stazione per prendere l'unico frecciarossa l'aeroporto è l'unico aeroporto italiano dove i voli cambiano di settimana in settimana dove vai a fortuna chissà dove vado da Perugia questa settimana chissà dove mi portano e poi è chiaro che diminuiscono i turisti e grazie ma se non ce li porti i turisti non è che di solito i turisti stranieri stanno in Italia fai nel pacchetto 5-6 giorni fai Venezia fai Firenze fai Roma vuoi che un turista straniero non possa ambire a farsi una giornata in Umbria vista le perle che ci sono in Umbria ma se ci metti un giorno per arrivarci e un giorno per tornarci è chiaro che l'Umbria è eliminata dai tour operator perché uno non ha tempo da perdere io chiedo a Donatelle a chi governerà la regione Umbria di dedicarsi non in 5 minuti perché non facciamo miracoli quelli che faceva Santa Rita ma in 5 anni a sistemare le strade e le ferrovie di questa regione per permettere alla gente di lavorare di viaggiare di spostarsi di andare di venire non ci vuole non ci vuole uno scienziato sulla sanità anche oggi ho beccato un signore che mi ha detto Salvini ci rivediamo tu sei a Milano io vengo a Varese perché io sono malato sono Umbro ma per curarmi devo spararmi 700 km per venire a ospedale di Varese perché le liste d'attesa qua mi fanno aspettare e se c'hai soldi vai a farti la visita privata e paghi il privato se non c'hai soldi preghi Dio di arrivare prima che ti chiami qualcuno lassù e non è normale è forse il fatto che questi siano andati a casa perché truccavano secondo l'accusa i concorsi negli ospedali me l'ha detto anche un chirurgo che ho incontrato oggi Salvini mi raccomando liberate l'Umbria dalle incrostazioni fate lavorare i medici bravi gli infermieri bravi non i raccomandati i figli di gli amici degli amici perché altrimenti la gente scappa non sarà facile perché qua ci sono 50 anni se l'ospite dopo tre giorni dà fastidio figurati dopo 50 anni quindi qua ci saranno ad aprire cassetti cassettoni armadi non abbiamo paura di farlo dipende da voi poi la regione gestisce anche le case popolari i contributi regionali i bonus e chi sceglie questo simbolo in Umbria stroncone come in tutta l'Umbria il 27 ottobre fa una scelta chiara noi lo diciamo prima non lo diciamo dopo chi sceglie il simbolo della Lega fa una scelta chiara se ci mandate in regione le case popolari i contributi regionali visto che sono poche prima vanno agli italiani e poi vanno al resto del mondo prima vanno agli Umbri e quel che avanza va al resto del mondo così fa la Lega dove governa in Lombardia in Veneto in Lombardia c'è un contributo di 400 euro al mese alle mamme ai papà separati o divorziati con dei bimbi a carico che non ce la fanno a tirare a fine mese e quei 400 euro spesso ti fanno la differenza perché magari il papà separato si prende un monolocale in affitto dove puoi incontrare il suo bimbo il sabato o la domenica però abbiamo messo delle regole per cui il 95% di quei contributi vanno a mamme e papà italiani che sono qua da tanti anni perché per carità di Dio siamo tutti uguali al cospetto di Dio però se ho una casa popolare qua secondo me è più giusto darla a chi è qua da 30 anni paga da 30 anni suda da 30 anni e fatica da 30 anni rispetto a chi sbarca domani mattina a Lampedusa perché chi è qua da 30 anni si è conquistato un diritto in più è come imposta sei in fila e l'ultimo arrivato si mette in fila e poi prima o poi tu che invece in alcune realtà gestite dalla sinistra l'ultimo arrivato fa il fenomeno scavalca la fila e ti passa davanti e poi gli altri si innervosiscono ma non perché sono razzisti o fascisti ma perché sono persone normali quindi è un voto di legittima difesa di orgoglio di dignità e poi fatelo anche per i 60 milioni di italiani che non hanno la fortuna di votare il 27 ottobre perché lo diciamo sottovoce e rispettosamente il governo nato sarà formalmente legittimo ma è un governo figlio di un tradimento e di un furto di volontà popolare perché non rappresenta sicuramente la volontà del popolo italiano ma manco quella del PD e dei 5 Stelle che si stanno scannando c'è quello del PD che lancia lo YouSoli quell'altro dei 5 Stelle che dice sì allo YouSoli ma poi Di Maio dice no allo YouSoli e allora la Boldrini dice sì allo YouSoli e poi sulla riforma della giustizia cane e gatto l'unica roba per cui stanno al governo è che gli sta sulle palle Salvini questo l'abbiamo capito però non è un programma di governo abbastanza significativo per governare un paese il fatto perché poi lo dicono in televisione non siamo andati a elezioni perché se no vinceva la Lega che spirito democratico è mettiamoci insieme non si sopportano anzi l'abbiamo visto in Umbria si fanno arrestare a vicenda e però poi si alleano io però penso che il tempo sia galantuomo e quindi possono scappare qualche tempo ma non possono scappare all'infinito e se voi tenete duro e ci state vicino noi al governo ci rientriamo dalla porta principale da quel portone là non calandoci dal tetto come i ladri di notte da quel portone là ci entriamo per intanto cercheremo di limitare i loro danni se provano a fermare quota 100 per tornare alla legge Fornero non li facciamo uscire dal Parlamento giorno e notte perché la legge Fornero è la legge più infame votata dal dopoguerra ad oggi perché pensare di tenere i lavoratori e le lavoratrici in fabbrica fino a 67 anni è una roba da malati di testa con tutto rispetto per i malati di testa veri fino a 67 anni con la schiena rotta ma ti par normale vigileremo perché non tolgano quel taglio delle tasse che noi abbiamo già finanziato e entra in vigore il primo gennaio di quest'anno per partite IVA artigiani commercianti piccoli imprenditori liberi professionisti che fatturano fino a 100.000 euro si pagherà il 20% secco di tasse non una lira in più qualcuno di quei geni del PD sta dicendo no vogliamo forse tornare indietro perché è un premio ai privati ai ricchi 100.000 euro lordi che poi ti diventano 50.000 quando hai pagato le tasse è proprio una roba da ricconi ma è proprio la mentalità se pensano di tassare chi fa la spesa in denaro contante è proprio culturalmente sbagliato blocchi l'economia la gente torna a mettere i soldi dove? sotto il materasso come mia nonna se li metti in banca ti tassano se li prelevi in banca ti tassano se vuoi fare la spesa ti tassano ma sono soldi guadagnati con l'onesto lavoro uno li potrà spendere come vuole dove vuole quando vuole senza doverne rendere conto allo Stato di perché usa voglio pagare con 50 euro e allora è proprio è sbagliato il concetto di banca d'altronde la prima dichiarazione al Corriere della Sera del ministro nuovo ministro della scuola ve la ricordate per aumentare gli stipendi degli insegnanti stiamo studiando di tassare le merendine le merendine tassare le crostatine il chinotto la cedrata la fanta vi rendete conto che se sei lì a pensare di tassare le merendine hai dei problemi evidentemente quindi noi cercheremo di limitare i danni faremo le nostre proposte perché non è che stiamo all'opposizione dicendo solo no faremo le nostre proposte di manovra economica di taglio delle tasse intanto contiamo sui nostri sindaci e sui nostri governatori e vi aspetto perché c'è il governo del palazzo e il governo del popolo e dei cittadini a Roma sabato 19 ottobre in piazza San Giovanni nella più grande manifestazione di donne uomini liberi pacifici sorridenti anche se un tantinello incazzati ma in maniera positiva quindi per far capire che noi non ci arrendiamo anzi rispondiamo col sorriso perché più minacciano ieri mi hanno fatto un'altra scritta stavolta a Bergamo Salvini appeso a testa in giù e pensano poi loro sono democratici Salvini in piazzale Loreto Salvini appeso a testa in giù sparate a Salvini di tutto e di più sapete qual è la risposta più bella e più giusta a questa cattiveria il sorriso e il lavoro perché una risata li seppellirà siamo dalla parte della ragione è questione di tempo abbiamo bisogno di voi lo dico con estrema umiltà non siete voi che siete qua a dover ringraziare noi siamo noi che siamo qua a ringraziare voi perché ci avete dedicato due ore del vostro tempo dopo una giornata di lavoro di studio di ospedale di fatica di litigi e quindi per me è il premio è il premio più bello poi noi facciamo le robe alla buona di solito qua già va di lusso perché abbiamo una fontana di solito faccio i comizi sulle seggiole di plastica sui tavolini dei bar ma meglio così perché mi piacciono le robe spontanee una marea di gente come sto incontrando in Umbria però non pensavo di incontrarla posso dirvi che avete una voglia di cambiamento e un'energia eccezionale e vi chiedo di vi chiedo un'ultima cosa e non la faccio lunga buonasera signora buonasera sono io che la prendo da voi la forza però vi chiedo di riflettere su una cosa oggi è il 30 30 settembre mancano 27 giorni al 27 ottobre alle ultime elezioni regionali i dati dicono che ha votato la metà della gente e la metà della gente è rimasta a casa sapete qual è il mio il nostro e il vostro avversario non è il PD 5 Stelle la sinistra hanno già perso sono gli Umbri rassegnati sono quelli che non votano sono quelli che non scelgono certo magari fino all'ultima volta la gente non votava perché diceva questi vincono a 40 anni quindi voto non voto non cambia nulla tanto vincono sempre loro sto giro ogni singolo voto che voi riuscirete a conquistare scaldando la testa ma soprattutto parlando al cuore dei vostri amici parenti colleghi conoscenti chi sta a casa il 27 ottobre chi sceglie di non scegliere è complice dei ladri e di chi non vuole cambiare è un'occasione storica storica ce la date una mano a scaldare le teste e i cuori sì o no? ecco c'è bisogno di voi vi chiedo di vivere questi 27 giorni e non mi stancherò mai di dirlo come tra qualche settimana mia figlia come tanti bimbi che vedo qua e ho visto prima al parco giochi vivono i giorni che mancano al Natale come quando ero piccolo e mi regalavano il calendario dell'avvento e ogni giorno aprivi una casellina per vedere che sorpresa c'era dentro ecco vi chiedo di vivere questi 27 giorni con l'entusiasmo con la gioia con la voglia di arrivare a quel voto come un giorno di festa cioè proprio come una liberazione perché se va come penso che vada toccando ferro e sono scaramantico ma se fate il miracolo dopo 50 anni la data del 27 ottobre 2019 la studiano i vostri di